we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyudea è un bel po che non facevamo un video insieme è vero è vero sei contenta dall'anno scorso ragazzi da quando eravamo come vedete vacanza dove siamo adesso in vacanza cosa abbiamo trovato no secondo me non è fake veri o fake vorrei far vedere qua alla camera ragazzi allora ci sono quelli fake ci sono ragazzi che abbiamo trovato che avevano scritto fortnite ma le scrivere avevano zeus sono andata a vederle apposta perché non ci credevo così quasi se questo allora se questo video piace facciamo l'unboxing di quelli ferita ragazzi questi cioè o sono veramente super fake dovremmo prenderli due fake per farglieli vedere cosa c'è perché hanno tutte le skin uguali ragazzi senti aprirò prima te perché devo aprirlo prima va bene lo apro io ragazzi che cavolo c'è dentro maschini aia 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 non voglio vedere non voglio vedere cos'è che cacchio ho trovato tu oh così grande ma perché ha una sciabola in mano aspetta ma perché è bellissimo inquadraglielo tu è bellissimo è uno meno pandizzizzare con una sciabola raga troppo bello raga è figo è perché è bellissimo è bellissimo cos'è fake però ci sta la sciabola ti prego mettiti la sciabola perché voglio voglio vedere provate o meno focaccina ce l'ho anch'io eh dai dimmi che non trovo l'omino focaccina dentro dai dimmi che sono tastato attenzione che apro grande mago grande mago wasabi aperta così secca ci caccio la mano è diverso si wasabi porca troia questo è ancora più oddio questo se no ma piano che non l'ho neanche visto faccio arrivare un trance ragazzi ragazzi ho trovato un trance eccolo ma faccio vedere la faccia e la faccia del trance la vedo no questa dovrebbe essere torre allora no scusate gli occhiali dentro c'è dentro qualcosa c'è dentro qualcosa no al mitra wasabi al mitra aspetta al mitra ce lo metto io aspetta cioè l'omofocaccina raga è bellissimo l'omofocaccina non è male ha la faccia un po' ambigua ma non è male ma il trance è è durato malissimo tra l'altro c'è un blaccio mezzo nero non riesco a è proprio una cosa che mi hanno messo è fatta malissimo è fatta malissimo è mio è fatto benissimo allora ragazzi un saluto da l'omofocaccina da Giorgio è il trance il tranceone un saluto anche grazie per aver visto il nostro video mi raccomando scioppate col codice SILARONE alla prossima ragazzi ciao 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 ciao